Bim! Tempo di sacrifici! Un nuovo strumento al fianco delle imprese. Sapori a colori, la SLA si sconfigge ai fornelli. Caso, un cantautore a scarpatetti. E poi lo sport, basket, la BM, soccombe a calbiate. Queste le notizie di oggi di Telesondre News. Benvenuti! Buonasera e benvenuti alla nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo questa sera con una buona notizia. Nessuna persona è stata coinvolta nella valanga che si è staccata nel pomeriggio di oggi a Livigno, nel comprensorio del carosello 3000. Alla notizia della caduta della Slavina si era subito attivata una task force composta da tecnici del soccorso alpino, carabinieri e vigili del fuoco, presenti sul posto anche con l'elicottero. Le ricerche, fortunatamente, hanno dato esito negativo. Molto probabilmente, all'origine del distacco nevoso, le alte temperature, anche se sul caso sono in corso aggiornamenti da parte degli uomini dell'arma nella stazione di Tirano. Dopo l'Assemblea del BIM, che ha avuto luogo venerdì scorso, si levano tante voci e c'è una sola certezza, i tagli operati dal consorzio. Tempo di sacrifici. Queste le parole chiave che potrebbero riassumere i contenuti emessi nel corso dell'Assemblea del BIM, che ha avuto luogo venerdì scorso. Un incontro presieduto dalla Presidente Carla Cioccarelli, che ha visto l'approvazione del Consuntivo 2016 e del bilancio di previsione 2017. Voce di spesa decisiva per gli anni a venire sarà la tangenziale di Morbegno. Se le entrate si confermano sul livello degli anni scorsi, con circa 18 milioni di euro dai sovraccanoni e 1,8 milioni di avanzo, il consorzio si prepara a versare ad ANAS i 2 milioni di euro previsti per la compartecipazione alla realizzazione del fondamentale intervento viabilistico. Ad essere ridotti saranno così gli stanziamenti per il sociale, da 7 a 6 euro per cittadino, il Fondo Grandi Eventi e le risorse per i contributi ad associazioni in campo culturale e turistico sul territorio. Addio anche alla promozione tv sulle reti nazionali. Tagli che colpiranno in particolare le comunità montane. L'esecutivo tutto, la massima attenzione ovviamente l'ha avuta verso i suoi soci, quindi verso i comuni. Gli unici a cui non abbiamo chiesto sacrifici, condividendo anche, ripeto, con i cinque presidenti delle comunità montane a questa nostra proposta, sono proprio i comuni. Gli altri enti che beneficiano dei contributi del BIM, le comunità montane, ho detto che era un anno di sacrifici, quindi loro, anche loro, hanno, si sono adeguati, hanno condiviso un taglio anche a loro sfavore, diciamo così, nella misura di 600 mila euro. Un confronto serrato, quello che è seguito alla relazione della Presidente, a far sentire la propria voce e ad esprimere il proprio dissenso diversi amministratori, tra i quali Alcide Molteni, sindaco di Sondrio. Tra i temi affrontati dal primo cittadino del capoluogo, riferimento in particolare alla situazione concernente l'aspetto mediatico ed informazione in genere, riguardo al quale BIM sembrerebbe da tempo avere operato scelte ben precise, puntando su partner elettivi. Noi in questo consorzio, credo, abbiamo dimenticato, non dico molte volte, ma in molte occasioni, che il senso etico è l'elemento che sta alla base della scelta di stare insieme. Lo so anch'io che avere un consenso giornalistico, avere l'attenzione nell'acquistare gli abbonamenti alla provincia, avere incarichi alla teleunica, possa, possa, servire ad avere un consenso e una visibilità. Credo che questi siano elementi che, apparentemente marginali, spostano il tema da quello che io ritengo sia il tema prioritario. Sono stati tantissimi i fedeli che dall'Alta Valle alla Val Chiavenna hanno voluto raggiungere Monza per omaggiare Papa Francesco. Tra il milione di pellegrini presenti, 1.400 proveniva dalla nostra provincia, unitamente al gruppo di 200 volontari della Protezione Civile di Sondrio, impegnati a coordinare il flusso da e per il Parco Brianzolo. Fortissima l'emozione provata dalla folla, che con fular bianchi e gialli ha invaso l'area verde mai prima d'ora così gremita, accogliendo a braccia aperte l'arrivo della Papa Mobile, con cui il Pontefice ha fatto il suo ingresso per poter celebrare la Santa Messa, che uno dei fedeli provenienti da Val Furba ha definito toccante e indescrivibile. La Camera di Commercio di Sondrio e l'Ordine dei Dottori Commercialisti scendono in campo al fianco delle imprese. La gestione dei debiti accumulati dalle imprese può diventare più semplice, grazie alla Camera di Commercio e all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Sondrio, che unite hanno dato vita all'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, un servizio che consenterà le piccole aziende in difficoltà, ma anche i professionisti e i consumatori, di evitare il fallimento. L'organismo mette a disposizione 10 professionisti esperti, i gestori della crisi, che assisteranno, su richiesta dei singoli, le imprese nella predisposizione di una proposta, che certamente comporterà qualche sacrificio da parte dei creditori, ma che consentirà negli obiettivi di restituire una situazione di equilibrio alle imprese e quindi una continuità aziendale. Ma il nostro servizio non si rivolge solo alle imprese, ma si rivolge anche ai professionisti e in generale ai consumatori, quindi a tutte quelle situazioni di eccessivo sovraindebitamento che si possono essere verificate soprattutto in questi anni che non sono stati facili, non sono ancora facili, in considerazione del non positivo ciclo economico. La proposta, approvata dal Ministero e discreta numero 100 nel registro degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, permetterà così di creare una mediazione tra creditori e debitori, realizzando un piano di rientro. Obiettivo, la continuità aziendale per il soggetto in difficoltà. Professionalità e sussidiarietà sono le parole chiave dell'iniziativa, ha sottolineato Vittorio Quadrio, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Sondrio, ed è un servizio che non avrà alcun costo aggiunto per la Camera di Commercio, realizzato grazie a difficenze interne. Per approfondire maggiormente questa possibilità, saranno organizzati successivamente anche dei momenti informativi. Marijuana conservata in involucri di celofan e 430 euro in contanti. Questa la rifluttiva che ha fatto scattare la denuncia in concorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di due cittadini di origine romena, residenti in provincia. I due, entrambi i 28enni, sono stati intercettati dai poliziotti di Sondrio nel pomeriggio di sabato, mentre si aggiravano in maniera sospetta a Piazzale Bertacchi. Una volta bloccati ed in seguito al rinvenimento della droga, gli agenti della questura hanno deciso di estendere i controlli nelle relative abitazioni, dove sono stati trovati anche un bilancino elettronico di precisione e due grinder, macina e erba utilizzati per sminuzzare la marijuana, match che è stata sottoposta a sequestro. La cucina come mezzo per sconfiggere la malattia. E questa è la ricetta speciale di Paolo Palumbo. Non mi ferma nessuno, niente è impossibile. Questo è il motto di Paolo Palumbo, 19 anni, oristanese, autore del best-seller Sapori e colori. Un titolo d'effetto, quello del volume scritto a quattro mani con lo chef di fama internazionale Luigi Pomata, dietro cui si c'erano declinazioni inedite dell'arte culinaria, pensate per venire incontro alle esigenze di chi è affetto da malattie neurodegenerative, quali la SLA, che rendono ostici gesti apparentemente semplici, come la deglutizione. Una condizione vissuta in prima persona dallo stesso Paolo. Dopo la sconvolgente diagnosi, il giovane, senza perdersi d'animo, ha ideato un progetto editoriale unico, in cui ricette semplici ma gustose sono le vere protagoniste delle pagine, illustrate dal contributo fotografico di Pierluigi Dessì. Io nasce dopo un ricovero a Milano, al centro clinico Nemo, dopo aver conosciuto tutti i pazienti. Ho conosciuto Antonio, che è un paziente che ha fatto la SLA da 14 anni, è allettato, parla con un comunicatore curale e mangia tramite pelle. Dopo averli fatto tante domande e gli ho chiesto cosa gli manca a Sipiu, e mi ha detto che gli mancava il piacere e il gusto. Perché siamo messi subito a studiare come risolvi il problema e abbiamo creato il libro. È stato impegnativo scrivere un libro, ideare le ricette? Abbastanza, perché comunque le ricette vanno provate e studiate in base alla dieta, sono gli alimenti che non ci possiamo mangiare, perciò ci abbiamo lavorato abbastanza. Una passione, quella per i fornelli, è ereditata da Paolo dal padre Marco, chef che ha fortemente creduto nel progetto. In questo libro noi abbiamo usato tutti i prodotti cosiddetti a chilometro zero, quindi tutti i biologici e abbiamo eliminato alcune proteine della carne rossa e alcune proteine del latte, sostituendole con dei derivati del latte oppure con del latte di soia o del formaggio con del tofu. Abbiamo eliminato anche del pesce, il pesce cosiddetto pesce grande, che è carico di metalli pesanti, perché in tutte queste malattie neurodegenerative i metalli pesanti contenuti nel corpo sono a livelli incredibili. Un'iniziativa preziosa, capace di sbancare le classifiche dei libri di cucina nel bel paese e di mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica sulla ricerca, unica arma vincente per sfidare la malattia. È importantissimo sensibilizzare le persone per far capire di cosa si tratta e soprattutto dare più fondi alla ricerca attraverso questo libro, come stiamo facendo noi anche in altri modi, quindi in modo a far conoscere quale sia il problema, le malattie, molte malattie che non si conoscono ancora. Quindi in qualche modo aiutiamo la ricerca per cercare una cura. Quali sono le ricette che preferisci, che consiglieresti? Il risotto, quello crescente e prosecco, che ha fatto per Antonio, ragazzo malato di SLA. È stato individuato e denunciato il responsabile che aveva dato fuoco a due vetture a Tresivio nella notte dell'8 marzo. Si tratta di un uomo di 60 anni con vari precedenti penali che ha ammesso di aver incendiato i veicoli perché appartenenti alla sua ex compagna. Per il 60enne, oltre alla denuncia per danneggiamento seguito da incendio e reati persecutori, è scattata anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della donna, emessa dal GIP del Tribunale di Sondrio Carlo Camnasio. Serata di notte a Scarpatetti Voce, chitarra e un palcoscenico unico, sotto una volta antica in uno dei più suggestivi scorci della nightlife sondriese. Questi gli ingredienti del live di Andrea Casali, in arte caso, che nei giorni scorsi si è esibito a Scarpatetti. Uno showcase acustico e intimo, in un'atmosfera sospesa, durante la quale il cantautore Bergamasco ha potuto presentare al pubblico il suo quarto lavoro, Cervino. Cosa ti ha portato a Sondrio? Diciamo che ho incontrato la Valtellina un po' di anni fa, sono venuto diverse volte a suonare qui in provincia e poi fortunatamente qui del Nuovo Portico ha voluto portarmi anche con questo disco qui, che è il mio quarto lavoro, e sono contento chiaramente di essere qui, ed ho fatto il mio concerto qui, seppur piccolo e intimo. Una decisa volontà di raccontarsi attraverso le corde di una chitarra, quella che muove l'ispirazione dell'artista, in cui riecheggiano eclettiche suggestioni di mondi musicali distanti, capaci di dar vita a una sorprendente alchimia. Diciamo che il mio background più radicato viene dal punk e dall'accordo, quindi sicuramente nomi come Oscar 2 e Kina hanno sicuramente fatto da base per me. Poi mi sono sempre piaciuti anche il cantautore, e chiaramente approcciandomi io a voce e chitarra soltanto, uno dei, di sicuro quello che più stimo, che più ascoltato negli anni, è il classico De Gregore. Sulla questione sanità di montagna arriva forse un punto di svolta. Domani, presso la sede del Pirellone di Regione Lombardia, è in programma un tavolo in cui l'assessore al welfare Giulio Gallera si confronterà con i portavoci istituzionali della nostra provincia. Al centro del confronto, il futuro del punto nascita di Chiavenna, la neurochirurgia di Sondalo e il P.O.T. di Morbegno. Questa sera dalle ore 20 e 30, presso il Teatro Sociali di Sondalo, si terrà la sesta e ultima esibizione del Tour dei Solisti di Milano, dopo il successo delle tappe di Ancona a Vezzano, Pescara, La Mezzia Terme, Catanzaro e Vibo Valencia. L'evento, promosso dall'Associazione Amici della Musica di Sondalo, in collaborazione con il Comitato Nazionale Italiano Musica, fa parte del progetto Circolazione Musicale in Italia. E ora la linea passa a Elisa Compagnoni con le notizie dal mondo dello sport. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento dedicato allo sport. Questa sera apriamo con il basket. Purtroppo niente da fare per l'ABM sul campo di casa del Palasceghi, ma vediamo tutti i dettagli del servizio. L'ABM affonda sul parche di casa del Palasceghi ed esce sconfitta dal match contro la palla canestro a caviate per 67 ad 81. Non c'è stata purtroppo storia per i padroni di casa, che sono stati in gioco solo nel primo quarto, nel quale erano in leggero vantaggio per 17 a 16. Da quel punto in poi è stato un continuo waltzer di bombe avversarie, con tiri da due, da tre e dalla lunetta. Un festival che non ha lasciato scampo, ha capitato anche da due compagni, costretti ad inseguire per tutto il resto della partita. Nel secondo quarto, il parziale da 6 a 22 ha creato un divario tale da rendere quasi impossibile la rimonta, distanza ricucita in parte sul finale da parte dei verde e nero. Gli ospiti hanno sempre cercato di rendersi pericolosi, con percentuali altissimi di canestri ed una marcatura anche eccessiva su triulsi. Una tattica che si è rivelata essere vincente, che ha messo in difficoltà i sondriesi un po' carenti dal punto di vista difensivo, fattore che concesso al caviate di poter andare a segno più volte senza eccessivi ostacoli. Costretta ad incassare questa sconfitta, ora l'obiettivo dell'ABM è lottare per difendere la terza piazza nel campionato di Serie D. In quest'ottica risulterà fondamentale la sfida di domenica contro il Biassono, per mantenere almeno il più 2 sull'Omazzo, con il quale si franteggerà per l'ultima di campionato il 7 di aprile, poi destinazione play-off. Il sogno play-off è purtroppo ormai quasi un miraggio per il zondrio calcio. Nella partita giocata sul campo della Castellina contro l'Onibiano Giono, i Bianconzulli hanno strappato un pareggio di 1-1, non riuscendo così a conquistare i tre punti necessari per avvicinarsi alla zona play-off. Sorride invece la Pezzini, che sul parquet di casa sconfigge la Bocconi per 88-77. Torna finalmente la vittoria alla Sertori Sondrio, che in trasferta sconfigge il Cogoletto per 45-25. Weekend splendente anche per lo sciarpinismo, con la vittoria ottenuta da Michele Boscacci nella prova sprint di Coppa del Mondo, e la Coppa di Specialità, invece, conquistata per il terzo anno di fira da Robert Antonioni. Argento e Oro per Giulia Murada, rispettivamente nella gara individuale e sprint nella categoria Juniors. Secondo e terzo posto, nella prova individuale, per Giulia Compagnoni e Ricolo Cancrini, rispettivamente nella categoria Espois e Juniors. E ora invece passiamo allo sciarpino, titolo tricolore per il Livignasco Giulio Zuccarini. L'atleta del Comitato Fisi Alpi Centrali si è laureato campione italiano nello slalom gigante di sciarpino, categoria giovani, mettendosi alle spalle Diamond Hell e Samuel Moenig. E con questo termina l'appuntamento dedicato allo sport e di sentirci alla prossima edizione. E con lo sport si conclude il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata!